Buongiorno e benvenuti da Vanni. Vanni è un marchio di occhiali che esiste da 30 anni, ha una storia lunga e capitate in questo momento nella grande affluenza dell'ora di pranzo. Noi abbiamo cercato e abbiamo deciso di soffermarci sull'importanza di un prodotto made in Italy, perché gli occhiali Vanni sono interamente fatti in Italia, e abbiamo per questo inventato una campagna pubblicitaria che segue le linee della metafora dell'importanza del prodotto italiano, abbinando i nostri occhiali al buon cibo della nostra tradizione enogastronomica. Se di questo momento vedete lo stand affollatissimo, abbiamo iniziato a offrire le lasagne, siamo un'azienda che per l'80% esporta, ci sono qui oggi su Instand i nostri distributori dei 40 paesi con cui lavoriamo e devo dire che un po' li prendiamo per la gola. La collezione Vanni di quest'anno, come un buon cibo, parte da un'ottima materia prima, noi sappiamo benissimo che la pizza la possono fare anche in Cina, ma poi manca il prodotto, la qualità della prima materia e le buone mani che la realizzano. Allo stesso tempo un buon occhiale è fatto da ottima materia prima, ma noi lavoriamo acetati esclusivi disegnati dal nostro centro stile. Ci disegniamo i nostri materiali, i nostri occhiali quindi sono molto interessanti, ma soprattutto sono inimitabili in qualche modo eppure molto riconoscibili. L'altro dettaglio della nostra collezione è di soffermarci anche sui metalli, su delle lavorazioni particolari e quest'anno abbiamo introdotto lavorazioni che abbinano materiali diversi, quindi metalli, guaine in acetato, tessuti lame contenuti nelle guaine in acetato che rendono il prodotto molto elegante e scintillante in qualche modo. Possiamo parlare anche di forme. Quest'anno ritorna la tradizionalissima e celebratissima forma a gatto tipica degli anni 50. vi presento un modello, un tipico cut-eye, che però è stato reinventato in qualche modo all'insegna della contemporaneità, per cui riprendendo una forma che era tipica, la ricordiamo nei film anni 50, su personaggi che hanno fatto la storia anche del cinema, però viene riattualizzata e resa molto materica, in qualche modo distinguibile. Da questa fiera ci aspettiamo come sempre di avere l'occasione di creare nuovi contatti, un palcoscenico meraviglioso, è la fiera migliore che esista al mondo, nuovi contatti con altre parti del mondo dove non siamo ancora presenti, nonostante già in una buona parte ci siamo, ma anche un'attenzione per i nostri ottici italiani che possano fare scelte di prodotto molto attente e cercare il design e la particolarità di una manifattura italiana che noi esportiamo con molto orgoglio, di cui ci freggiamo e ci onoriamo di tenere alta la bandiera.